Buonasera e bentrovati al notiziario di prealpina.it. I Novax imbrattano i muri in mattinata, i No Green Pass bloccano Piazza Libertà nel pomeriggio. È la giornata di proteste andata in scena oggi a Saronno. Ce ne parla Luigi Crespi, immagini di Domenico Ghiotto dell'Agenzia Blitz. Una cinquantina di attivisti guardati a vista da almeno altrettanti poliziotti. Si è svolta regolarmente questo pomeriggio in Piazza Libertà a Saronno la manifestazione non autorizzata contro il Green Pass. Il sindaco aveva espresso giudizi assolutamente netti, una manifestazione genere non si sarebbe dovuta tenere. I manifestanti sono arrivati lo stesso, c'è la libertà d'espressione, scontati gli slogan, no allo stato d'emergenza, no ai ricatti di stato, no al Green Pass. La manifestazione è continuata per ore. In piazza alcuni momenti di tensione sono stati registrati quando gli attivisti hanno cercato di portare un generatore per permettere l'alimentazione dell'impianto di altoparlanti che doveva diffondere il loro slogan. Tutto però si è risolto tra la curiosità dei presenti e senza incidenti. Ripuliti i magazzini di loro piana a Silavegro in provincia di Novara. L'altra notte una banda ha messo segno un colpo in grande stile, utilizzando quattro furgoni, tre dei quali rubati in Lombardia, i ladri hanno saltato i depositi dell'azienda leader nel settore dell'abbigliamento, portando via in particolare capi in Kashmir. I ladri hanno prima bloccato il centro del paese con due dei veicoli e poi sfondato il muro dei magazzini, quindi hanno caricato i capi su altri due mezzi con i quali sono fuggiti. Uno dei furgoni è stato intercettato dai carabinieri e dalla polizia stradale lungo la provinciale della Valsesia. La banda però ha gettato chiodi a tre punti sull'asfalto che hanno squarciato le gomme delle pattuglie degli inseguitori. Inoltre è stato lanciato un estintore contro una vettura dei carabinieri. Fortunatamente l'impatto è stato evitato grazie all'abilità del militare al volante. I malviventi hanno anche sparato alcuni colpi di pistola. Il furgone è poi uscito di strada e gli occupanti sono fuggiti a piedi, facendo perdere le loro tracce. L'altro mezzo si è dileguato con una parte della refurtiva. Si tratta di un colpo clamoroso. Lieto fine per un gatto che era finito in una canna fumaria ed era rimasto incastrato per oltre una settimana senza che nessuno se ne accorgesse. A Maccagno, Compino e Veddasca i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre l'animale sano e salvo. È accaduto in uno stabile disabitato di via Mameli. Il gatto era caduto per circa 6 metri nel cavedio ed era intrappolato da 8 giorni. Oggi è stato liberato. Il micio, una volta che gli è stato fornito del cibo, è stato anche affidato a una residente della zona che si è resa disponibile ad accudirlo. Spostiamoci ora a Varese. Dall'Università dell'Insubria, dove oggi si è tenuto un simposio dell'Ordine dei Medici, parte l'appello del Presidente nazionale Filippo Anelli. Auspicchiamo una riforma della medicina del territorio, ha detto. L'attuale organizzazione della medicina territoriale si basa sulla figura del medico condotto, introdotto nel secolo scorso. Vanno mantenuti in vicinanza al paziente il rapporto di fiducia, ma adesso serve un cambio di passo. La richiesta è di attuare un servizio multiprofessionale. Chiudiamo con lo sport. Nella moto 2 si fa largo la MW Agusta. In vista della gara di domani a Valencia, Simone Corsi ribalta i risultati del primo giorno di prove e conquista una clamorosa pole position. Per il momento è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci domani alle 19 per una nuova edizione del notiziario di prealpina.it Grazie a tutti. Grazie a tutti.